Rischio sismico, le norme per la sua riduzione, modalità di vigilanza e controllo della costruzione in zone a rischio. Il tema al centro della riunione della Commissione regionale Territorio Ambiente e Infrastrutture, presieduta da Manuele Marcovecchio. In audizione tutti gli attori interessati, dal lancio al genio civile all'ordine degli ingegneri. In sostanza ciò che si fa è un adeguamento alla norma nazionale della legge regionale datata 11 agosto 2011, ma molto vantaggiosa in termini di velocità. Va nella direzione da noi auspicata, che già abbiamo avviato con il regolamento sismico che abbiamo approvato qualche mese fa, di un processo di semplificazione per quanto riguarda la questione riguardante l'adeguamento sismico. Non c'è dubbio che non è una norma per tagliare delle garanzie rispetto alle verifiche che devono essere fatte nell'ambito del procedimento. È semplicemente un banale momento di semplificazione normativa. Un lavoro di miglioramento in realtà iniziato già a giugno, come spiegato dal consigliere regionale Americo Di Benedetto, che consentirà uno snellimento delle procedure. Si continua un lavoro che già abbiamo fatto nel giugno scorso, dove abbiamo individuato un percorso facilitativo rispetto al genio civile, alle pratiche del genio civile, nelle aree sismiche e individuiamo in virtù della legge nazionale una distinzione fra interventi rilevanti, di modesta rilevanza e privi di rilevanza. Oggi facciamo la stessa cosa attraverso un adeguamento alla legge nazionale, dove certifichiamo, in virtù di questa legge, che l'interfaccia con il genio civile viene fatta con un'autorizzazione nei 30 giorni, non più nei 60 giorni il genio civile è obbligato e lì dove non dovesse rispettare il termine scatta il silenzio assenso e comunque anche nelle interlocuzioni fra i soggetti interessati al deposito delle pratiche e il genio civile stesso non si possono chiedere più di una integrazione. Quindi è uno snellimento delle procedure che rispetta il percorso di garanzia sulle pratiche sismiche ma che mette anche nelle condizioni gli operatori di avere risposte più celeri.